Taglia il traguardo della 45esima edizione Cantiano Fiera Cavalli che celebra con un contenitore unico nel suo genere un'eccellenza autoctona quale è il cavallo del Catria. La fiera si trarà nelle due domeniche del 13 e 20 ottobre nella splendida cornice del centro ipico Labbadia di Chiaserna. L'evento è stato presentato nella sede di Confcommercio Marche Nord rinsaldando il patto fra Cantiano e la rete promozionale dell'itinerario della bellezza. In un periodo in cui il re Tartufo fa da protagonista Cantiano si posiziona con la propria unicità che è il cavallo del Catria che non è un'unicità solo di Cantiano ma dell'intera regione Marche. L'unica razza autoctona attorno alla quale si crea un evento ormai che calca la scena nazionale. Un contenitore Fiera Cavalli nelle due domeniche centrali storiche di ottobre alla 45esima edizione. Quindi un mix tra enogastronomia di qualità, il cavallo chiaramente, gli sport equestri, gli intrattenimenti musicali per bambini. Una giornata in cui si ritrova quel rapporto naturale tra uomo, natura e cavallo. E' questa forse la forza e l'unicità di questo evento a livello nazionale, di non svolgersi in un padiglione fieristico bensì alle pendici del Monte Catria. Quindi più di un ettaro di superficie in cui godersi appunto in maniera così spensierata e ritrovare questa sinergia con la natura e di apprezzare l'unicità del cavallo, di questo animale mansueto con cui è possibile in queste due giornate avere anche rapporti diretti. Quindi salirci, toccarlo, viverlo proprio nel suo ambiente naturale che è quello appunto da cui prende il nome, che è il massiccio del Monte Catria. Questa mostra ci sta particolarmente a cuore non solo per il fatto che ha al suo interno eccellenze e questa peculiarità di riscoperta del verde, della natura e quindi del contatto che possono avere poi le persone, le famiglie con la stessa, ma perché è un simbolo di rinascita. La fiera del cavallo di Cantiano, voluta fortemente dall'amministrazione dopo tutto ciò che è successo, ha dato l'imprint, ha dato veramente il senso della ripartenza, non solo per le fiere regionali ma anche per tutte le attività e i cittadini di Cantiano. Quindi è sicuramente una fiera che vale la pena di visitare ma è un simbolo fortissimo di rinascita e di speranza del nostro territorio. Per il tramite del cavallo noi riusciamo a raccontare le bellezze del nostro territorio, quelle alimentari, quelle agroalimentari, la nostra storia, la cultura, le tradizioni di un'intera comunità. Quindi abbiamo deciso di giocarsi anche la carta dell'edizione primaverile e raddoppiare nelle due domeniche l'edizione autunnale e creare di Cantiano Fieracavalli l'evento principale dal punto di vista promozionale di ricaduta economica reale sul territorio che assieme all'altro evento, quello identitario-culturale che è la turba, ormai senza soluzione di continuità promuove Cantiano tutto l'anno.